oh finalmente ti ricordi quando noi avevamo fatto la gag quella di Boatenga da Roma dove io lo chiamavo e lo invitavo a venire qui pare che ci sia cascato insomma stanno preparando un quadriennale e beh serviva insomma una persona un professionista serio insomma dedito al lavoro proprio stacanovista che anche quando dici guarda è finita l'allenamento no 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 io resto ma no guardate che hanno a casa no 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 non se ne parla odio le discoteche esatto proprio non mi piace ballare Michael Jackson a Ponte Miglio tutte queste cose esatto finalmente un calciatore serio che sta mentre gli altri escono lui resta lì resta lì in un defesso proprio fino a la sera non gli piace andare a beve non gli piace le donne non gli piace niente oddio non gli piace le donne non credo perché stacco la satta insomma ecco io la mia felicità è questa finalmente vedrò la satta all'olimpico capitale guarda io guarda sto in brodo di giugio le parole si si oggi che va a vedere che ne so satta Empoli satta satta questo va bene va bene allora niente salutiamo Kevin Primes ti aspettiamo presto per farci due selfies e niente a presto presto grazie grazie a tutti ciao grazie a tutti